Io ringrazio Ijaba per essere con noi in questo primo seminario che apre un ciclo di tre incontri che realizziamo grazie al progetto europeo Migrant Literacies e appunto qui con noi c'è Silvia Ferreira Mendez che oltre ad essere socia fondatrice di Zafiria ha curato questa collaborazione, questo partenariato che ha coinvolto anche altri paesi europei. Anche loro in questo momento stanno raccontando che cosa è emerso da questo progetto che affrontava Ijaba la grande sfida dell'apprendimento delle lingue cercando alcuni ancoraggi imprescindibili oggi, ad esempio le nuove tecnologie. E quindi ci siamo chiesti insieme ai centri che solitamente fanno alfabetizzazione un po' quali fossero i modelli pedagogici di riferimento e quali fossero gli strumenti e le strategie per provare a capire come da un mondo completamente altro, perché noi come centro Zafiria non ci occupiamo di alfabetizzazione dei migranti ma ci occupiamo invece tanto di educazione ai media, le nuove tecnologie e cerchiamo di capire come le nostre cittadinanze possano essere davvero attive, creative, partecipate grazie a strumenti che sempre di più permettono un'autorialità diffusa e una collettività che in qualche modo può costruirsi e innervarsi in modo diverso. Quindi ci piaceva partire con te perché alla base di questo progetto europeo c'è l'approccio pedagogico del maestro Alberto Manzi. Lui negli anni 90 realizza per la RAI questo ciclo di trasmissioni che si intitola Insieme e che cosa ci dice il maestro Manzi? che di solito ad un migrante non serve tutta la lingua, cosa che sarebbe anche impensabile metterlo immediatamente di fronte in qualche modo ad un dizionario dalla prima alla milionesima pagina, ma gli servono alcune parole, lui diceva proprio un po' di lingua, quel po' di parole che permettono di far ripartire le vite nel paese d'accoglienza e che sono le parole dei diritti, le parole che ti permettono di accedere ai servizi, le parole che ti permettono di fare amicizia, di entrare in relazione con le persone con cui vivi. E quindi lui ha strutturato queste 60 puntate chiedendosi una persona può aver bisogno di andare in ospedale e quindi dovrà poter raccontare dei malesseri che prova rispetto al suo corpo, avrà bisogno di andare in comune, avrà voglia di una pizza o di un caffè nella possibilità appunto di entrare in relazione e di fare amicizie, di innamorarsi e di vivere, di immaginare un nuovo progetto di vita insieme. Tu in qualche modo sei un po' regina delle parole, nel senso che scrivi in italiano in qualche modo potendo guardare questa lingua italiana anche da altri punti di vista. Quindi ecco, mi piaceva cominciare proprio chiedendoti un tuo commento su questa possibilità di un primo dizionario di parole, come speranza di poter cominciare la nuova pagina di un libro, per persone che arrivano qui e hanno diritto di cominciare qualcosa di nuovo. Allora, prima di tutto buonasera, credo che mi sentite bene, vero tutti e tutte. Io vi ringrazio per avermi invitato con voi e le parole sono molto importanti, soprattutto le parole quando non ci conoscono. Io stavo dicendo proprio prima che sto studiando il portoghese, perché comunque è sempre un buon esercizio studiare le altre lingue per abbracciare un mondo. Io sono molto interessata alla lusofonia, al Brasile anche e soprattutto. E ho capito che questo amore non poteva prescindere dalla lingua, cioè la devo conoscere a un certo punto. Però ecco, quando penso alle parole che non ci conoscono, penso soprattutto al rapporto tra Italia e Somalia, perché è un rapporto che va quasi al di là della migrazione. Cioè i miei genitori sono venuti qui negli anni 70, però che già conoscevano l'italiano, no? Era una situazione molto strana. Non la conoscevano, mio padre la conosceva meglio di mia madre, però non era una lingua estranea perché era una lingua coloniale. Perché comunque la Somalia è stata colonia italiana per tanto tempo e dal 1950 al 1960 è stata anche sotto l'amministrazione fiduciaria italiana, come un surplus di colonia in qualche modo. E diciamo che questo legame con l'italiano è durato fino agli anni 90, fino a scomparire. Adesso i giovani somali non sanno l'italiano. Però una certa età di persone ancora lo sa. Se voi capitate a Minneapolis, che è tristemente nota per i fatti che sappiamo, vi capiterà di prendere un taxi e sentirevi parlare in italiano. Perché appunto i somali che guidano i taxi a Minneapolis sono tantissimi, sono più di 70.000 somali lì e parlano ancora l'italiano. Quindi ho sempre avuto questo rapporto con una lingua che per i miei genitori era anche una lingua un po' nemica. Però è anche una lingua necessaria anche allora perché i loro documenti erano scritti in italiano, la scuola a cui hanno mandato i loro figli era una scuola italiana, la cultura pop era una cultura pop italiana. Quindi si sono ritrovati qua a affrontare però un italiano diverso, che era un italiano quotidiano. In somali si parlava un italiano aulico, qualcosa anche di informale. Invece arrivati qua, il dialetto, chiaramente questa cosa ti sbarella un attimino un po'. E io ho pensato, se è stato difficile per mia madre, per esempio, che già sapeva questa lingua, sarà stata molto molto più difficile per qualcuno che non ne sapeva nulla, no? E quindi è chiaro che il maestro Manzi ha ragione, cioè le parole vanno conosciute piano piano, quelle che ti servono, quelle che a volte senti tua, perché tu senti quando studi una lingua, senti che alcune parole ti appartengono di più di altre, alcune fai ancora fatica, i dialetti, gli accenti, i suoni. Quindi devi prima abituarti a un'atmosfera linguistica e poi entrare in questa lingua. È sempre un compromesso tra quello che siamo noi e quello che è la lingua, no? E io ho sempre trovato che le lingue ci parlano in modo differente e noi siamo differenti quando parliamo una lingua o un'altra. Io che ne ho studiato un po', mi sono resa conto che questo cambia anche la faccia, c'è anche il comportamento, con alcune lingue sei più coraggioso, con altre sei meno coraggioso. Per esempio mia madre quando parla in italiano è molto molto gentile, è molto dolce, molto carina. E non che non è dolce quando parla somolo, però è molto più taliente, fa le battute, il doppio senso. Quindi è chiaro, cambia anche il nostro comportamento. Penso che per un migrante, è chiaro, la lingua è un abito, cioè può anche essere una lingua utile nel momento, può anche essere però una lingua che poi riesce a entrare. Quando entri bene nella lingua, poi entri anche bene nella società. Per me, chiaramente con l'italiano, questo problema non sussiste, io sono nata qua, quindi è diverso, non si sente anche dall'accento, no? Però io ho molto riflettuto su questo, guardando molto le lingue comparate e soprattutto le persone che avevo intorno. E allora mi collego già alla seconda domanda. Sì. Questo libro qua, ditemi Zeno, confermami che lo sto inquadrando bene, che mi ha fatto compagnia in questi giorni, anche per, ecco qua, si vede bene anche per chi ci sta ascoltando, è La linea del colore di Jabba Sciego. Un romanzo bellissimo, con un femminile davvero dirompente, prorompente, che mi è piaciuto davvero tantissimo. E mi colpiva i Jabba perché protagonista, fra le protagoniste di questo libro, abbiamo la Fanu, che è un'artista e che ad un certo punto fa i conti con il tema dell'educazione e dell'alfabetizzazione, nel senso che lei accede ad un altro mondo, ma addirittura al suo stesso sogno, quello di diventare artista, passando in qualche modo per un percorso educativo e scolastico. e mi colpiva molto perché tu nel tuo libro riesci a farci cogliere senza giudicarla, però in qualche modo a metterci di fronte a questo tema in qualche modo dell'educazione come forma di dominio. Perché sono gli americani bianchi che decidono che cosa la Fanu può studiare quando se appunto è meritevole, se è degna, oppure no, quindi se rimanere fra virgolette selvaggia o invece farla entrare in questa società che poi le aprirà mano a mano le porte dell'arte, delle gallerie, dei musei. E appunto richiami un tema che chi si occupa di alfabetizzazione, di educazione, e tocca con mano che è quello delle forme di dominio, del potere che in qualche modo chi educa ha nei confronti di chi sta educando e come se lo gioca, quindi come lo mette a servizio di quella persona o come invece lo tiene in un'altra cornice di senso. Quindi anche qui ti volevo proprio chiedere un po' come, che cosa ne pensavi e come anche sei riuscita a farlo emergere così bene nel racconto del libro dove la FANU ci permette di pensare ai tanti percorsi di potere cui anche i migranti così in qualche modo devono sottostare quando accedono nei nostri percorsi educativi. Allora io parlo un attimino del libro vi faccio una piccola premessa questo libro è diviso in due parti cioè in qualche modo che si intrecciano allora una è quella appunto del romanzo tardo-vittoriano perché è un romanzo tardo-vittoriano anche se è scritto adesso e dove appunto la protagonista la FANU Brown è una donna nativa americana e afroamericana quindi nell'ottocento quindi voi capite se gli afroamericani hanno problemi ancora oggi pensate nell'ottocento a molti molto di più però ha questa ansia di voler cambiare di seguire le orme di questo fatidico padre che non ha mai incontrato haitiano e io quando poi ho scelto di farlo haitiano un po' mi sono ispirata a un vero personaggio ma un po' perché mi lego idealmente alla rivoluzione haitiana che è stata diciamo una presa di di possesso del potere da parte dei neri haitiani che erano soccombenti in qualche modo e io mi sono ispirata per fare questo lì e poi c'è la parte moderna invece legata al viaggio nel Mediterraneo e che si intreccia attraverso la figura di una curatrice d'arte e moderna cioè di oggi e io per fare questo libro mi sono ispirata a due donne realmente esistite una si chiama Edmonia Lewis ed era una scultrice e l'altra si chiamava Sara Parker Raymond ed era un'abolizionista attivista poi è diventata in Italia ostetrica allora a me ha colpito nelle loro biografie oltre il viaggio in Italia che è il frame principale diciamo del libro e poi vi parlerò perché ho scelto questo frame questa cornice ma quello che mi ha colpito è proprio il processo educativo perché non è scontato cioè non è in quel periodo non solo le donne nere le donne tutte avevano veramente problemi ad accedere al sapere cioè comunque è sempre stato molto tortuoso o accedevi a certi sapere a certi no eccetera eccetera allora mi ha colpito che per esempio la famiglia di Sara Parker aveva dei precettori a casa cioè studiavano dentro casa una sorta di homeschooling e invece Edmonia è andata in un con dopo una scuola così solo per neri è finita in questo college in cui veramente accoglievano anche studentesse nere cosa che era abbastanza notevole per l'epoca è chiaro che io ho fatto vedere quanto però in queste strutture queste donne cioè questa donna la personaggia non si trovava perché comunque sì le volevano insegnare ma non troppo sì ma non si doveva far vedere no quindi c'è proprio un percorso a ostacoli lei riesce a coronare i suoi sogni attraverso altre figure quindi la professoressa Mallone che trova la scuola di Cobberlin a a a a che si l'aiuta ma poi la tratta pure male perché lei è la salvatrice bianca in questo libro no è quella che vuole in qualche modo che la luce sia riflessa su di lei perché in qualche modo è io che sono la salvatrice tu sei la salvata quindi non è che hai molto o molto voce in capitolo infatti a un certo punto cerca di indirizzare indirizzare la Fanu verso quello che voleva lei è un percorso a ostacoli è chiaro che nella mia mente c'era anche il percorso a ostacoli dei migranti oggi perché finché sei braccia qui ti accettano quando quando fai il passo successivo che mostri che hai un cervello che hai un intelletto ti accettano meno infatti noi abbiamo comunque un problema molto grande in Italia abbiamo le nostre università le nostre scuole che sono all white cioè e chi non lo è che c'è ci sono un sacco di ricercatori precari che hanno altre origini fanno una grande grande fatica quindi è chiaro che questi due discorsi vanno di pari passo sì mi fai anticipare questa domanda che ti avrei fatto successivamente quando appunto studiavo e riflettevo sul tuo libro ho trovato questo discorso del 1900 durante il primo congresso panafricano a Londra di questo intellettuale nero Dubois che intitola questo discorso la linea del colore quindi appunto mi sono chiesta se in qualche modo anche per te fosse un riferimento poi per il titolo del tuo libro dove lui dice durante il suo intervento la domanda è fino a che punto le differenze di razza diventeranno la base per negare a più della metà del mondo il diritto di beneficiare delle opportunità e dei privilegi della moderna civilizzazione se pensiamo che questo problema lui se lo pone nel 1900 siamo nel 2020 e anche i recenti fatti di cronaca ci fanno toccare con mano come sia assolutamente ancora qualcosa che non riusciamo nemmeno a pensare quasi con gli strumenti per immaginare delle delle soluzioni e io ti volevo chiedere tu che risposta daresti oggi a più di un secolo dopo a questo intellettuale che appunto ci poneva oggi come allora la stessa domanda allora Dubois in realtà sembra francese il nome però si dice Dubois anche io facevo questo errore da tempo fa e lui diceva una cosa molto molto vera cioè che il problema lui parla del ventesimo secolo il problema del ventesimo secolo è la linea del colore questo diceva di color line ed è ancora così quella linea che in qualche modo divide bianche e nere divide non solo bianche e nere divide tutti però in qualche modo lui parlava di questa di questa divisione e nel mio libro io chiaramente mi sono ispirata a lui ma nel mio libro questa linea del colore diventa per la protagonista è la linea e la linea pittorica quindi c'era questo gioco che ho usato la linea del colore è quella linea che divide ma è anche per lei la linea pittorica che per lei è vita quindi cioè io quindi cerco di superare questa divisione attraverso la mia forza no? questo ci vuole dire la personaggia è chiaro che però i rapporti di forza sono purtroppo ancora quelli ci sono barriere di colore barriere di appartenenza barriere di classe io ci tenevo a farle vedere in questo libro perché anche per esempio ho lavorato molto su questo su questo femminile perché è una fresca al femminile però tutte le donne di questo libro non sono uguali appunto chi è nera chi è nera più chiara chi è bianca ricca chi è bianca povera e quindi dipendente quindi è tutto un po' un po' più sfumato quello che ho cercato di fare è far vedere tutte le sfumature del nero e tutte le sfumature del bianco e far vedere che comunque essere donna non è facile che il succo della faccenda è anche purtroppo quello quindi sai io penso sempre che non possiamo mai vedere una questione senza vederne un'altra perché per esempio la personaggia si studia però grazie alla donna bianca salvatrice in qualche modo che le impone delle cose però il suo più grande problema è anche il denaro quindi è anche un problema di classe e io questo l'ho veramente tratto da Edmonia Lewis perché Edmonia Lewis quando appunto voleva tanto venire in Italia e poi quando è venuta veramente in Italia ha fatto una grande fatica con i soldi cioè comunque doveva sottostare la carità di queste donne che non l'aiutavano che dicevano no ma perché fai questo per tre ti ho proposto non sei così brava cioè valutando loro che non sapevano niente di critica di scultura quello che lei faceva quindi all'inizio è stato molto molto difficile e poi piano piano ha cominciato a vendere vendere le sue cose e quindi a cominciare a vivere di arte perché comunque vivere di arte è un problema sempre cioè anche oggi cioè se voi pensate ai discorsi che fanno i politici sugli artisti da mettersi le mani nei capelli noi facciamo divertire no? non è che l'arte è considerata parte costitutiva di una nazione no? ancora no? soprattutto in Italia quindi volevo mettere in luce anche il mestiere di questa donna cioè comunque è una donna che si è scelta un mestiere e che fa di tutto per difenderlo su quello io ho messo non solo la mia ma la autobiografia degli artisti cioè perché è veramente complicato e quindi ci sono questi temi che si intrecciano poi volevo dire un'altra cosa che non c'entra sulla linea del colore ma c'entra sul femminile io per fare questo libro che è ambientato la cornice è molto precisa è quella del viaggio in Italia quindi chi faceva questo viaggio in Italia? lo facevano i gentiluomini i ricchi i borghesi i nobili il famoso Grand Tour lo faceva Goethe un sacco di scrittori ci hanno lasciato cose scritte Melville ce l'ha lasciato Hothurn io ho usato molto un libro di Hothurn che si intitola Il fauno di marmo che è un libro noiosissimo però tecnicamente non sembra lo stesso autore della lettera scarlatta però ecco lo usavano come guida e una cosa che ho capito leggendo Hothurn e Ray James e tanti altri è che in questo viaggio maschile perché la cornice era un viaggio maschile quando entravano le donne quando entravano a fare questo viaggio in Italia io dico le donne tutte non solo le due a cui mi sono ispirata se le donne bianche erano quelle la maggior parte delle donne che viaggiavano erano si liberavano dei lacciuoli che avevano in madrepatria quindi erano molto più liberi in Italia molto più liberi di fare l'artista per esempio molto più liberi di vivere da sole ci sono un sacco di donne che vivevano da sole cosa che era impensabile negli Stati Uniti o anche solo in Inghilterra e molte donne avevano anche vite sessuali molto libere per esempio la Edmonia Lewis viveva con altre donne ed erano lesbiche e tanto che Henry James a un certo punto le aveva proprio le aveva presi in giro aveva presi in giro Edmonia anche per il suo colore della pelle e quindi per me è stato molto interessante capire questa forza prorompente delle donne in viaggio e di quanto per esempio due donne nere in Italia avevano una libertà di movimento che negli Stati Uniti non avevano anche perché quello che è successo a George Floyd purtroppo è sempre successo perché in realtà sono 400 anni di sottomissione completa a cui però gli afroamericani non ci stanno gli afroamericani hanno sempre lottato però li hanno sempre distrutti cioè li hanno distrutti il corpo con la schiavitù con la segregazione con gli inciaggi e con le esecuzioni sommarie che vediamo adesso e non è un caso che io nello studiare queste donne sia Edmonia che Sara ho trovato in tutte e due le biografie una grande aggressione uno stupro per Edmonia uno stupro barra aggressione di cui non si sa molto però leggendo le varie biografie si è arrivata alla conclusione che lei ha subito una violenza sessuale e per il colore della pelle perché lei la volevano far pagare e Sara Parker Raymond è stata buttata letteralmente giù dalle scale perché aveva usato andare a teatro a sentire la musica lirica che lei amava il canto lirico era andata a sentire Donizetti per l'esattezza quindi le aggressioni sono la base un po' come ci dice James Baldwin non so se voi l'avete mai letto ma James Baldwin quando capisce che lui è in pericolo perché si era messo in una situazione di un pericolo e che in America il suo corpo sarebbe stato distrutto decidi di andare a vivere in Francia quindi io in qualche modo ho usato un topos della vita degli afroamericani perché poi questo libro è un libro che parla di un'afroamericana ma con un'ottica afroitaliana perché comunque è una cosa che ho voluto sottolineare 300 volte che non era appropriazione culturale ma che a me serviva questa figura ponte io la Fanula considero ponte per far vedere alcune cose del nostro paese dell'Italia grazie io se sei d'accordo farei così ti faccio un'altra domanda io nel frattempo le persone che ci stanno seguendo buonasera vedo arrivata Lidia la maestra Claudia io mi so Azeb eh sì Azeb ciao ecco nel frattempo intanto la mia bambina sta giocando qui vicino a me mi dice mamma fai più piano con questa strana convivenza di ambienti e situazioni e se siete d'accordo le persone che ci stanno seguendo io proporrei intanto se avete delle domande per i java di segnalarvi in chat così insieme a Silvia Zeno poi riusciamo a darvi la parola e io intanto i java appunto volevo in effetti anche chiederti questo nel tuo libro c'è un altro personaggio femminile che colpisce molto che è Binti lei tenta questo viaggio per arrivare in Europa il viaggio va malissimo e tu riesci a farci capire quanto diciamo se proprio non lo volessimo capire in nessun modo se non ci bastasse tutta la cronaca e quello che sappiamo della violenza di questi viaggi tu riesci anche nella narrazione che costruisci a farci sentire i brividi per questo viaggio che finisce male e a me faceva riflettere perché quando il viaggio apparentemente finisce bene perché queste persone riescono ad arrivare in Europa noi spesso che cosa succede che appunto li accogliamo in un contesto che se se teniamo in considerazione il discorso linguistico appunto ricollegandoci al progetto fa sì che addirittura noi prendiamo persone che hanno subito violenze spesso inconcepibili e inimmaginabili mettiamo loro davanti strategie da scuola elementare come fossero bambini di 6-7 anni e li cominciamo a ricostruire pezzi di mondo quindi noi avevamo anche sentito questo durante il progetto chiaramente il fermarci un passo prima perché qui siamo di fronte ad un dolore che non so forse si può che ci lascia di sicuro senza parole chiederci come questa dimensione questa persona che abbiamo davanti che in quel momento è una persona che sta chiedendo un'alfabetizzazione in una lingua altra sia una persona che spesso ha visto pezzi di mondo che il mondo che lo accoglie non riesce proprio nemmeno a così a sentire in modo empatico a sentirlo come questione che ci riguarda a tutti a negarlo a immaginare che lasciarli in mare sia meglio e quindi ecco volevo chiederti un passaggio anche su questa fatica qui che noi non si capisce perché ancora a quale misura prima o poi ci rassegneremo per dire sì è vero sì è questo si sta accadendo allora io sono anni che vediamo le persone morire e devo dire che è una cosa terribile io mi ricordo una delle prime volte in cui si è fatto qualcosa di pubblico a Roma era il 2005 se non sbaglio ed era un funerale a piazza del Campidoglio dove erano state messe delle bare di 13 somali che erano morti a largo di Lampedusa e il sindaco di allora aveva deciso di fare questo funerale a Roma perché tecnicamente allora 13 persone erano tante poi ci siamo abituati ai numeri più grandi purtroppo e io mi ricordo una grande partecipazione di italiani una grande partecipazione di Sommale è stato un momento molto molto in senso e nessuno di noi però poteva immaginarsi che sarebbe continuato per i 15 anni successivi senza una discussione sul viaggio legale perché poi in questi viaggi sono proprio giovani a farlo io volevo far vedere questo che molti sono giovanissimi che hanno dei sogni che vorrebbero magari solo studiare quindi se avessero la possibilità di dare quei soldi non ai trafficanti ma venire che ne so in Europa quanto in America quanto in Asia prendersi una pensione studiare sarebbe meglio per tutti tornare al paese di origine una volta che c'è una possibilità legale di viaggio poi non crea il desiderio di viaggio è tutto molto concatenato però noi viviamo in questa grande paura che tutta l'Africa arrivi qui cosa che oggi leggevo una notizia molto interessante del Ghana che appunto sta dicendo agli afroamericani lasciate gli Stati Uniti venite da noi sarete meglio perché già hanno fatto una politica del ritorno e molti afroamericani adesso vivono in Ghana e adesso questa cosa la vogliono implementare ancora di più perché Ghana ha tutto l'interesse di avere afroamericani o altre persone cioè effettivamente avere le persone non è una roba negativa no? è una roba positiva cioè se tutti noi cominciassimo adesso c'è il covid però se cominciassimo a circolare con un po' più di razzocinio con maniere legale senza dare i soldi ai trafficanti secondo me sarebbe bello e poi volevo far vedere questo peso dei passaporti e poi volevo far vedere una cosa anche un po' biografica cioè che tu magari sei nato in occidente e a me è capitato di andare in Somalia però molti dopo gli anni 90 nati dopo gli anni 90 non hanno mai visto il paese si dicono somali sono di origine somala ma non hanno mai visto e hanno però parenti lì e quindi c'è questo rapporto a distanza ancora prima che ci fosse il covid no? i migranti hanno i rapporti a distanza che e io voglio far vedere come questo rapporto a distanza a un certo punto tra due due cugine entra il dramma no? di cui una è consapevole quella che vive in occidente l'altra pure però preferisce affrontare il dramma perché è molto più grande il desiderio di viaggio no? e quindi questo rapporto a distanza per me era molto importante ed era anche è anche il rapporto a distanza che entrambe poi hanno con la Fanu Brown o con la figura perché è un libro sul viaggio anche la Fanu desiderava venire in Italia no? e ha avuto un sacco di problemi quindi in un certo senso sono viaggi a specchio e non è io non ho usato la cornice del Grand Tour a caso no? perché c'è tanta letteratura sul viaggio in Italia e sul viaggio adesso avete visto molti stanno piangendo non ci sono i turisti avevamo bisogno di residenti nel centro eccetera eccetera non pensando che in realtà uno può creare un'altra tipologia del viaggio non soltanto mordi e fuggi che non fanno nemmeno bene le nostre città quindi vedere la migrazione come una risorsa non come una cosa negativa e dare possibilità legali perché se no ingrassiamo solo la mafia ecco era uno dei motivi principali per cui è scritto il libro il viaggio sì sì personalmente Giaba è un aspetto che ho sentito tanto perché avere un passaporto forte nella nella tasca hai pienamente ragione cioè tante volte mi sono trovata negli aeroporti dove il fatto di essere europea solitamente vestita bene con tutta una serie di indicazioni dall'occhiale alla moda cioè vedevi che tu passavi signora vada proprio questo penso che sia la misura del e magari dietro di te semplicemente sulla base proprio dell'apparenza si veniva fermati anche solo appunto perdevi tempo e quindi tante volte mi sono detto anch'io passando Casablanca Dakar Tokyo Osaka Seoul ti rendi proprio conto di come nel nostro piccolo certi passaporti fanno sì che le porte siano già aperte e con altri passaporti invece occorrà almeno bussare e poi non è nemmeno detto che si possano si possano aprire anche quando siamo lì negli stessi aeroporti con diritto di viaggio io volevo lasciarti l'ultima domanda sul tema del corpo per chiudere e quindi mi piaceva visto che sono già le 5.50 chiedere alle persone che ci stanno ascoltando Azeb se ti faccio rompere il ghiaccio tu saresti d'accordo Zeno si smicrofona Azeb lasciamo una gestione un po' libera così ascoltiamo un po' voi Azeb ha te la parola ciao intanto a tutti vedo facce meravigliosamente conosciute ma in realtà c'era un passaggio che volevo condividere con tutti voi con Ijaba una domanda anche rispetto all'uso della parola forse in questi anni Ijaba dicevi che nel 2005 eravamo piangevamo 13 persone e poi abbiamo smesso un po' non di contarli ma di piangerli chissà che in questi anni non c'era l'esigenza di imparare l'italiano di rimparare l'italiano non appartenga soltanto alle comunità straniere ma appartenga anche alla comunità italiana in qualche modo abbiamo perso la sensazione che abbiamo perso abbiamo tolto dignità a certe parole come la morte come la sofferenza come l'accoglienza e dall'altra abbiamo riempito invece di non senso altre parole che invece non avevano questo ruolo importante ci siamo dimenticati un po' tutti la lingua italiana forse questo lo sto sentendo molto come pensiero come riflessione e adesso che Jaba diceva dei 13 morti che piangevamo nel 2005 se penso a quante volte non abbiamo neanche letto la notizia ultimamente non facevano caso a niente questa era la prima la seconda era rispetto a quello che dicevi tu del viaggio e del passaporto a volte non è soltanto il passaporto perché anche chi ha il passaporto come me come altri c'è c'è qualcos'altro ma non so dire non mi può bastare il colore della pelle non basta più anche la lingua italiana perché la parlo bene la parliamo bene non è più il modo di vestirsi è un blocco da qualche parte ed è l'elemento su cui anche questo di riflessione che sto sto sperimentando in questo momento è che non riesco a trovare non riesco a trovare grandi grandi risposte però dobbiamo farci delle nuove domande secondo me allora devo rispondere vero? è studiata allora no io è chiaro in questo romanzo ho voluto far vedere la differenza del passaporto perché comunque anche se uno ha altri tipi di ostacoli nel paese in cui vive per esempio noi abbiamo il passaporto forte però poi abbiamo tutta una serie di ostacoli dentro il paese però io ho notato che nel viaggio avere il passaporto italiano è una è facile ti rende comunque la vita facile e questa cosa è la cosa per cui quando parlo con i rifugiati dicono ma noi vogliamo diventare come voi della diaspora che potete andare ovunque quindi questa e questa divisione si fa vedere anche nei paesi di origine cioè comunque le persone della diaspora che hanno passaporti forti vanno in Somalia e dettano anche legge è una cosa è una cosa che ho notato però è chiaro abbiamo un sacco di problemi come fili di migranti qua io penso che ci sono due ordini dei problemi allora il primo ordine è legato sicuramente alla difficoltà che l'Italia ha con la sua alterità e che non è la nostra alterità è proprio l'alterità dell'Italia l'Italia è un paese fatto meticcio per eccellenza non è un paese che ha una origine che ne so gli anglosassoni non so cosa sono cioè l'Italia e gli italiani sono fatti da tutti arabi austriaci spagnoli lungobardi normanni cioè c'è stato veramente di tutto e quindi è il sangue più spurio del mondo infatti quando mi dicono you sanguinis io posso posso dire ok allora diamo la cittadinanza italiana anche a tutti gli algerini a tutti i marocchini perché effettivamente c'è stato molto legame e quindi lo you sanguinis non ha senso e questa cosa che secondo me sotto traccia c'è la paura di essere considerati non bianchi da parte degli italiani c'è molto e quindi è stato fatto secondo me questa è una roba a cui ho pensato tanto credo si è fatto una sorta di blocco muro psicologico e questa ricerca ossessiva dell'Europa di bianchezza di trasformarsi finalmente in bianchi senza discussioni e secondo me questo problema psicologico dell'Italia si è poi riverberato in tutto soprattutto lo vediamo quando nella legislazione cioè le nostre leggi sull'immigrazione non pensano a un altro cittadino pensano a un altro suddito coloniale emanazione delle leggi fasciste quindi in qualche modo secondo me dobbiamo lavorare sull'identità degli italiani cioè è fondamentale capire da dove sono venuti gli italiani chi sono gli italiani per superare questa cosa quindi questo è un ordine secondo me è un grosso problema perché è un paese che non si racconta la sua storia meticcia creola non la vuole sapere non la vuole raccontare e ci sono tracce ovunque l'altro io ci ho pensato l'altro problema secondo me è che è un paese di caste è un paese fatto di caste e quindi chi non solo chi non è di origine italiana ma anche chi fa parte di quella determinata casta ha comunque problemi per esempio in ambito lavorativo ed è secondo me dobbiamo lavorare su questi elementi perché l'identità la caste la classe come vogliamo chiamarle io la chiamo caste perché non è solo quella politica la caste è proprio come quelle della religione hindu i bramini sotto caste cioè stiamo là ancora e quindi dobbiamo sicuramente fare un lavoro di scavo psicologico antropologico storico è proprio necessario grazie ci sono altre domande ah sì Antonella sì c'è Antonella ti va di prendere la parola e farla tua e Giaba riesci a smicrofonarti Antonella riesci eccomi ecco ti arrivo ciao buonasera che piacere ciao buonasera sì sì ci riesci a sentire Antonella perché io non ti sento adesso sì no ecco sì io ciao ciao ecco io volevo 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 chiedere questo a Giaba scelgo lei come ha detto la dina saura ok 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 purtroppo io ti sento malissimo ma la leggo ok si la leggo subito Antonella la domanda la domanda la domanda per te era questa come hai detto bene all'inizio la lingua modella i nostri pensieri e la nostra società tutta il ruolo della letteratura di scrittrice e scrittori purtroppo no Antonella non ti sentiamo ma la sto leggendo il ruolo della letteratura di scrittrice e scrittori è forse anche quello di modellare la lingua renderla meticcia fare in modo che sia specchio della molteplicità linguistica e culturale della cultura che la produce come senti tu questo tuo ruolo di modellatrice di lingua in quanto scrittrice questa è una domanda difficilissima allora io penso sempre che ogni storia ha la sua lingua per esempio quando ho dovuto scrivere oltre Babilonia ho usato un multilinguismo per far vedere anche la migrazione di più e far vedere comunque i passaggi invece con la linea del colore ho fatto un lavoro completamente diverso cioè volevo per esempio molte persone mi hanno chiesto perché hai usato tante volte la parola negro io ci ho pensato no? perché in inglese avrei usato negro e non nigger che è molto pesante però in senso che volevo essere aderente alla lingua dell'epoca cioè io non potevo mettere nella bocca di una donna sì abolizionista ma che comunque ha un retro pensiero che viene da una certa cultura che i neri comunque anche se li vuoi aiutare sono inferiori cioè comunque la Bezzabea quello pensa non è che pensa che la Panu è uguale a lei pensa io la sto aiutando a essere la migliore della sua razza usa anche la parola la razza è chiaro che lì dovevo usare una parola molto pesante come negro che in italiano è pesante e perché devo cioè se fai un romanzo storico non è che puoi edulcorare no? la lingua deve anche mostrare soprattutto quando scrivi di certe cose la violenza che c'è nelle parole no? e a un certo punto lei dice la mia negretta che è anche peggio cioè a un certo punto sì ci sono delle parole che tu dici ma la sta aiutando ma veramente la vuole aiutare così no? quindi io mi sono molto divertita soprattutto a costruire Bezzabea perché è un personaggio che lo vedo anche adesso molto cioè non è un personaggio quasi evergreen perché è progressista ma a distanza cioè questi non si devono allargare troppo no? devono essere al loro posto quindi è un razzismo diverso da quello che ne so suprematista che non ti vuole proprio vedere ti vuole distruggere questo non ti vuole distruggere ma non ti vuole nemmeno al suo fianco no? vuole sempre comunque è gerarchico quindi in questo libro ho cercato di far vedere i rapporti di forza di dominio e anche però anche una lingua anche ribelle quella di La Fanu ma non solo nella parte diciamo ottocentesca che è stata la parte un po' più diciamo faticosa di questo libro anche perché io non sono una donna dell'ottocento quindi ho dovuto studiare banalmente ho dovuto studiare gli abiti perché da 1860 a 1870 la moda è cambiata mille volte è chiaro che nella parte moderna è un linguaggio molto più immediato molto più intimo anche perché la curatrice d'arte ci parla di sua cugina oltre che di La Fanu Brown quindi lei ha questa funzione ponte e una funzione ponte per me anche molto importante cioè ogni volta è molto difficile spiegare a tutti che non hai scritto un'autobiografia ma hai scritto una fiction e tutti mi dicono però Leila sei tu e io dico no Leila non sono io perché io non sono una curatrice d'arte ma Leila è una specie di simbolo delle seconde generazioni che ormai non hanno più vent'anni cioè quando uno pensa alle seconde generazioni pensa ai giovanissimi ai bambini e invece stiamo a quarantenne cinquantenne sessantenne anche no e questo fa capire la secondo me la misura del rapporto dell'Italia con l'immigrazione cioè se noi figli di migranti abbiamo cinquant'anni quarant'anni vuol dire che i nostri genitori ce n'hanno molti di più vuol dire che la migrazione qui è cominciata tanto tempo fa e che ancora siamo a caro amico no e per me era molto importante far vedere questa 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 seconda generazione un po' a g diciamo no perché se no rimaniamo sempre immobili a quel discorso ai cittadini cioè lui 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 a tutti serve pure ai vecchi perché qui il problema è che una 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 legge sulla cittadinanza doveva essere fatta nel 2005 ancora ci trasciniamo un discorso vecchio quindi in questo senso volevo far vedere l'immobilità di questo paese perché comunque lo vediamo in questi giorni cioè a me sembra di vivere una specie di quello del giorno della marmotta Bill Murray che si sveglia lo stesso giorno e a me succede questo da anni ormai e c'è adesso tutto questo discorso sulle statue non ci posso quasi credere cioè in senso che l'ho detto talmente tante volte le stesse cose che ogni volta mi dicono ma che bella idea che hai avuto di ritornare sulle tracce del passato di prima di distruggere magari fare una un discorso comune poi io vabbè faccio una divisione tra statue storiche o comunque manufatti storici calazzi storici quindi epoca fascista ma anche prima e la statue di Montanelli o a file che sono stati fatti nel 2006 2012 a file andrebbe proprio tolto però vabbè quello è un discorso lunghissimo però ecco la gente che ti dice ah che bello che nuovo a me viene da piangere perché effettivamente siamo siamo è la stessa cosa che dicevamo ieri è la stessa cosa che dicevamo l'altro ieri quindi a me sembra di stare veramente dentro quel film e quindi l'ho voluto far vedere con la Leila in questo libro e tra parentesi il nome Leila l'ho messo perché una mia amica Leila Al-Hussi è professoressa docente sta come tante donne che non hanno origine italiana insomma ha fatto fatica per arrivare dove è arrivata quindi volevo anche un po' omaggiare queste seconde generazioni che si mettono in ambiti considerati all white e fanno una grande fatica a superare le barriere e già io loro un piccolo pezzettino nel tuo libro lo leggerei io mi sono proprio segnata sulla pelle questa parte qua la paura la paura di perdere il corpo era presente già da secoli nelle nostre vite l'avevo provata mille volte succedeva in certi pomeriggi di pioggia io non posso chiamare casa un posto senza patate un posto in cui soffri la fame non è casa eppure noi facciamo di tutto per tenere i migranti affamati e spaventati con il corpo sempre più esposto e la cronaca americana di questi giorni ci conferma questa terribile presa d'atto noi non possiamo cambiare il mondo però ognuno di noi può fare qualcosa e è giusto così per darti quelle domande difficili che uno impallinerebbe c'è qualcosa di Giaba che nel nostro proprio quotidiano dobbiamo scolpirci nel cuore come diceva il mio prof di biologia e davvero quasi mandare a memoria perché basta perché come dici tu ieri l'altro ieri e domani rischiamo che sia la stessa cosa ci lasci proprio delle parole che possiamo possiamo tenere con noi per no guardi guarda quello del Black Lives Matter è una parola che ci dobbiamo scolpire nel cuore perché quello che è successo questi giorni è terribile cioè io per giorni sono stata così male così male e dobbiamo capire che i diritti devono essere adesso e subito dobbiamo cambiare la nostra storia subito e in Italia dobbiamo fare questa benedetta cittadinanza subito cioè a me dispiace che in tutto questo parlare in tutto questo manifestare poi la politica è stata in silenzio su questo come se non esistessimo e quindi forse la cosa da fare è fare pressione sulla politica perché non è possibile che i diritti soprattutto adesso con questo covid non siano non siano di tutti non ha non ha senso penso anche a la regolarizzazione farsa che hanno fatto cioè è sempre molto così in Italia cioè non ho una frase più che altro delle azioni cioè vi suggerirei come già fate del resto azioni concrete perché a noi ci mancano delle leggi giuste noi abbiamo in questo momento una legge che manca e una legge la bossi fini estremamente ingiusta e dobbiamo assolutamente cambiare questo il resto il resto verrà se noi facciamo questo grazie noi vogliamo allora io intanto dalla chat non vedo altre domande e nel ringraziare i Giaba Rosi tu vuoi dire qualcosa guarda non non so se ho parole così significative da aggiungere a questa meravigliosa chiacchierata ringrazio anch'io i Giaba per rimettere al centro al fuoco e anche in discussione valori e significati come anche essere italiani dovremmo costantemente rimetterlo in discussione mi vengono avrei tante suggestioni me ne vengono in mente due una in ultimo a questa che hai appena detto sulla cittadinanza su cui anch'io sento con grande dolore l'assenza un silenzio ecco contrapposto alle parole necessarie un silenzio politico da ogni direzione di qualsiasi bussola guardiamo o meglio non è vero ci sono piccole nicchie ma a cui poi non viene dato il microfono per parlarne in cui mi piacerebbe una cittadinanza basata sul lo dico ormai ultimamente spesso sulla ius voluntatis che va al di là del sangue e va al di là della alfabetizzazione della lingua visto che il focus del nostro progetto è anche questo ma veramente invece è basato sulla volontà di appartenere a una comunità per un periodo di tempo in cui uno sceglie perché anche qui il per sempre non è così fittizio illusorio ingannevole quindi questa secondo me sarebbe la direzione più visionaria a proposito di buone azioni di scardinare adesso e subito quindi una è questa e l'altra sempre mi viene da ricollegarlo al progetto a questa sfida che abbiamo tentato di attraversare con otto nove paesi in Europa è quello in fondo di dare parola di alfabetizzare ma nel senso proprio di dare parola attraverso i nuovi mezzi di comunicazione perché forse quello che ancora manca in maniera di empowerment autentica è la narrazione in prima persona di tutti di tutte le cittadinanze appunto anche di chi è di passaggio di chi appartiene e viene da altri luoghi ed era un po' questa l'idea di coniugare la alfabetizzazione necessaria per vivere in un paese ma non solo funzionare dei bisogni primari ma il vero grande bisogno che è raccontarsi e non essere sempre raccontati da altri e tu come scrittrice questo lo testimoni bene dando parole e corpo ecco quindi mi venivano così queste due suggestioni che mi hai scatenato su cui non so appunto grazie grazie a voi grazie Rosy vuoi tornare vuoi dire qualcosa i Java? no grazie grazie mille sono è bello il progetto che state facendo insomma è necessario mi sembra ci proviamo infatti io darei adesso il microfono a Silvia Ferreira Mendez così ci racconti dove trovare le cose che abbiamo preparato come speriamo usarle confidando che servano ad altri e quindi ecco Silvia grazie se ci fai entrare nel progetto sì grazie a tutti noi abbiamo parlato anche tutto il tempo di imparare le lingue quindi anche le parole dignità le parole anche di multilinguismo quindi questo progetto è un progetto europeo che è in corso già da tre anni quindi lo stiamo finalizzando e siamo proprio partiti da lì quindi migrant literacy parte di questa importanza comunque delle pluralità anche dei linguaggi perché noi parlavamo no gli analfabeti quindi quando i migranti arrivano che molte volte diceva Alessandra anche all'inizio vengono alfabetizzati anche con dei strumenti per bambini anche se sono adulti perché l'imparare la lingua viene messo a zero il che però la persona non ha solo una grande cultura ma anche una multilaterale una multitudine di altri linguaggi che dobbiamo anche noi imparare nel mondo d'oggi quindi anche quello visivo quello digitale perché anche gli strumenti l'accesso agli strumenti è molto importante per l'essere integrato quindi non solo il leggere e scrivere abbiamo poi anche dei migranti che abbiamo visto anche nel confronto siano otto paesi che sono alla base di questo progetto c'è tanti migranti che sono anche analfabeti nella propria lingua analfabeti nel senso di leggere e scrivere hanno altre alfabetizzazioni nel senso sono oralmente hanno una cultura forse orale hanno anche altre interpretazioni del linguaggio visuale e quindi partendo di questo io inviterei a tutti a visitare il nostro sito www.migrantliteracies.eu noi stiamo ancora finalizzando i nostri toolkit con tante attività che abbiamo sperimentato nel secondo anno con migranti in otto paesi anche con tutte le difficoltà di già parlavi anche di polizze di leggi quindi anche in Italia leggi che sono anche cambiate anche negli ultimi tre anni ma anche delle legislature che sono molto diverse entre i paesi che sono partner dei progetti quindi che hanno anche strutture diverse vorrei per esempio oggi abbiamo fatto anche nell'ambito del progetto un MOOC il nostro primo MOOC che è un un corso online gratuito perché noi il progetto è anche sull'importanza o anche sulla potenzialità che possono avere i nuovi media non solo nell'imparare la lingua ma anche a dare emancipare perché anche un saper usare un strumento e sapere avere delle competenze digitali fa parte anche di tutto questo complesso della cittadinanza digitale quindi su www.migrant.litter.csu potete anche entrare accedere al MOOC basta una registrazione il MOOC è gratuito si trovano lì nove moduli ogni modulo è stato creato e ideato da uno dei partner di ogni paese i moduli sono in inglese nelle lingue madri con sottotitoli inglese trovate però per esempio tre moduli in italiano di quale sono il modulo 2 e il 4 dei nostri partner Foconlos che sono i nostri partner siciliani che lavorano tanti con dei migranti giovani adulti non accompagnati adulti migranti nell'alfabetizzazione un modulo è della nostra Alessandra Falconi che si occupa in che modo l'uso creativo del digitale può aiutare a nell'elezione di alfabetizzazione ma anche nell'uso in ambito educativo quindi l'invito è questo di andare a visitare il nostro sito con calma è un corso che si può ogni modulo ha tre video che si possono visualizzare con tutta la calma e quindi chiuderei qui con questo invito e con un ringraziamento per tutto a questo dibattito interessante che penso che grazie Silvia che poi rilanceremo giovedì prossimo perché avremo con noi Federico Faloppa che è docente all'Università di Reading e saggista e quindi in questo caso arriveremo anche a parlare di discorso d'odio quindi ripartiremo dal tema dell'alfabetizzazione dell'apprendimento della lingua e in questo caso per toccare qualcosa che ci sta molto a cuore che è purtroppo la diffusione del discorso d'odio online e vi presenteremo anche il toolkit in italiano dove ci sono 12 atelier digitali che sono stati testati in Italia e dai colleghi europei e che sono stati sì pensati per appunto per i contesti di alfabetizzazione dei migranti ma confidiamo che possano essere utili e riadattabili anche in altri contesti come ad esempio nelle scuole secondarie o nei percorsi di rinforzo della della lingua della lingua italiana quindi io ringrazio tutti i giaba e i nostri partecipanti perché sono rimasti ringrazio tanto la mia collega Maria Teresa Schembri che non ho potuto salutare prima Valentina che è una maestra meravigliosa e una carissima amica quindi vi sto vedendo scorrere quindi ecco l'appuntamento con chi ha voglia di continuare a ragionare sulle parole che costruiscono il noi e sul fatto che non possiamo immaginare che non esista un noi e non è un noi perché c'è un'alterità di un voi ma perché è un noi perché tutti i destini a un certo punto hanno diritto di conoscersi toccarsi vivere insieme aiutarsi e darsi una mano quindi penso davvero che sarebbe bello come ci diceva i giaba che avessimo tutti nelle tasche dei passaporti per poterci incontrare conoscere parlare e possibilmente imparare tutte le lingue che abitano questo mondo e che ci darebbero tutte le metafore e tutte le immagini proprio per capire la realtà in cui viviamo capire noi stessi e capire la grande bellezza che abbiamo fra le mani quindi grazie a tutti voi e giovedì alle 17.45 i giaba te il saluto grazie e salutatemi Federico che è un grande amico è anche una cioè uno studioso di livello quindi avrete un bellissimo bellissimo incontro arrivederci allora grazie a tutti voi buona serata grazie a tutti